buona giornata amici da massimo foghetti dopo la pausa domenicale torniamo insieme a leggere i giornali del giorno il corriere adriatico e il resto del carlino sulle pagine di pesaro vediamo come oggi si festeggiano due sante si tratta di santa perpetua e santa felicita sono due sante che sono vissute a roma durante l'impero romano perpetua è stata una martire cristiana nata a cartagine nel 203 e morì nel circo sbrannata dalle belve feroci e nel carcere si trovava anche felicita una donna incinta che ottenne di poter partorire prima di subire la stessa condanna quindi due martiri che morirono insieme appunto durante le persecuzioni dell'impero romano vediamo il tempo vediamo che oggi il sole sorge alle 6 e 35 e tramonta alle 18 05 il tempo si mantiene instabile con piogge e rovesci in giornata ci saranno anche le nevicate sopra i due 300 metri le massime raggiungeranno gli 8 9 gradi mentre le minime si attesteranno sui 5 gradi i venti spireranno in maniera moderata da nord est sulle coste da nord e sull'interno debole da nord nord ovest insomma abbiamo diverse variazioni della direzione del vento durante la giornata questa mattina apriamo il giornale sulla pagina di pesaro del resto del carlino e vediamo come la notizia principale ovviamente è quella dell'arrivo dei profughi nel nostro territorio ci si attrezza si attrezzano i privati si attrezza anche la chiesa si attrezzano le istituzioni e nel questo caso vediamo come un sacerdote si tratta di don germano che ha allestito alcune stanze della sua parrocchia con letti a castello per fornire accoglienza a chi viene da lui dalla ucraina canonica a disposizione dei profughi ucraini don enrico e la catechesi dell'accoglienza il parroco di villa fastigi assieme a don germano ha allestito alcune stanze con letti a castello abbiamo anche pensato a uno spazio per i bambini e qui vediamo i due sacerdoti don enrico con don germano entrambi sacerdoti della parrocchia di san pietro in calibano a villa fastigi in alto a destra vediamo don enrico in canonica dove sono stati montati i letti a castello sono ovviamente sistemazioni di fortuna appena arrivano i profughi hanno bisogno di tutto e quindi si cerca di dare la prima assistenza poi si cercherà di fornire loro un'accoglienza definitiva abbiamo anche le testimonianze si susseguono soprattutto le testimonianze di chi viene da quel paese invaso youssef l'universitario in fuga da kharkiv ho preso il passaporto e ho lasciato tutto là si fugge si fugge in fretta in furia incalza l'esercito russo incalzano i bombardamenti piovono le bombe e quindi non c'è tempo per prendere nemmeno lo stretto necessario una testimonianza e pesaro che fa pesaro cerca di dare un po di calore cerca di far festa a chi passa nel suo territorio in questo caso vediamo sul resto del carlino come il sindaco ricci ha voluto fare un po di festa per salutare i profughi che passavano per pesaro e poi hanno proseguito verso l'abruzzo il sindaco risponde all'appello di kharkiv brindisi e regali per la comitiva di ucraini in partenza appunto per l'abruzzo voleva che anche solo per lo spazio di un'ora conoscessero pesaro ma soprattutto i pesaresi così prima che riprendesse il suo viaggio verso l'abruzzo dove li attendono dei parenti la comitiva di dieci ucraini prelevata sabato dall'avvocato michele mariella al confine con la polonia è stata letteralmente travolta dall'affetto della città e questa è una cosa veramente molto molto bella perché si nota come il nostro territorio è molto portato per l'accoglienza e quindi per l'assistenza verso chi ha bisogno di tutto che purtroppo ha lasciato tutti i suoi beni in polonia passiamo ai problemi di casa nostra e vediamo un articolo sul digestore non il digestore che intende realizzare l'aset in territorio fanese ma quello che tv roli intende realizzare in territorio pesarese a talacchio per il biodigestore di talacchio mancano una variante e 13 firme è stato pubblicato sul sito della provincia l'avviso pubblico del progetto ma la strada appare ancora in salita perché senza la modifica al piano regolatore generale quindi occorre una variante non sarà possibile procedere con gli espropri per la realizzazione dell'impianto è stato pubblicato dunque dalla provincia ed è un passo avanti che si fa sul piano amministrativo per la realizzazione di questo impianto l'avviso pubblico del progetto e il numero di enti che dovranno dare il via libera sono addirittura 13 quindi occorrono 13 firme ma anche più uffici dello stesso ente per cui si arriva addirittura a 20 prima di elencarli va detto che è necessario provare da parte del consiglio comunale una variante e una variante che permetta la costruzione dell'impianto oltre ad assimilarlo quale opera ad interesse pubblico per cui si possa poi procedere all'esproprio del terreno ma ovviamente c'è chi farà resistenza perché in questo caso anche a pesaro l'impianto viene contestato ma guarda chi troviamo in questo articolo si è parlato tantissimo di pandemia di covid ci si è un po' dimenticati dell'influenza quella tradizionale forse quella più banale ma che tanto banale non è marzo con temperature sotto zero così l'influenza soppianta il covid dopo essere praticamente scomparsa per due anni l'influenza rialza la testa numerosi sono i casi anche tra i giovani contagiati ci mancava questa l'epidemiologo pompili il freddo ha inciso anche sull'andamento della curva quindi chi non si è vaccinato per l'influenza sono soprattutto i giovani perché gli anziani magari nel mese da ottobre a novembre a dicembre hanno provveduto a vaccinarsi anche contro l'influenza in questo caso subiscono appunto gli effetti dell'attacco dei virus caro gasolio i pescherecci non vanno in mare c'è una adesione massiccia anche nelle marche allo sciopero nazionale di una settimana contro l'aumento del carburante stiamo a casa hanno detto i pescatori le spese per mandare avanti le barche sono superiori a quello che poi noi riusciamo ad incassare quindi non ci sarà pesce fresco per una settimana i pescherecci delle marche si fermano per protesta contro il caro carburante carburante che ora pagano circa un euro al litro con aumenti di 20 o 30 centesimi negli ultimi giorni sembra una piccolezza ma chi consuma 3.000 litri al giorno di gasolio come paolo palazzi di pesaro che è l'armatore di due pescherecci il drago e lo iacchi dove vi lavorano 11 marittimi ovviamente non riesce più a sostenere le spese con scarsi guadagni quelli che procurano appunto l'attività della pesca quindi il pesce ci sarà ugualmente perché sarà un pesce di importazione ma non ci sarà più il pesce meno per qualche giorno il pesce nostrano pescato dai pescherecci in adriatico studio sulla ferrovia lento per modo di dire si parla dello studio che la le ferrovie dietro l'impulso che dato la senatrice accoto la senatrice fanese accoto accoto e l'angue insomma non viene non viene portato a compimento per quanto riguarda la sua poi realizzazione pragmatica studio sulla ferrovia lento per modo di dire ed è russo remondini che interviene russo remondini scusa russo remondini dell'associazione ferrovia del metauro russo remondini dice i fondi stanziati nel 2019 ma resi spendibili ottobre del 2020 e ancora non vengono impiegati le attività sono iniziate nel giugno del 21 quindi un lungo iter burocratico di cui ancora non si vede il compimento alla mostra su lucio dalla i regali fatti a stefano ligi il cantante urbinate ha prestato per l'evento bolognese diverse rarità lui mi donò la sua giacca della tournée americana e di mitici ray ban gli occhiali appunto di lucio balla sono cimeli che gli stimatori di questo grande cantante che ha contribuito a rendere grande la musica italiana la canzone italiana tengono come dei veri propri tesori tesori vediamo sul corriere adriatico le notizie che riguardano fano vediamo che la pagina si apre con delle dichiarazioni del presidente degli albergatori e luciano cecchini la città è diventata un deserto nessuna iniziativa per i giovani la protesta del presidente degli albergatori non ci sono visitatori con il caro energia gli hotel sono chiusi sono chiusi gli hotel ma anche i bar che sono l'unica l'unico centro di attrazione per i giovani nella città di fano chiudono in anticipo per risparmiare sulle spese del riscaldamento e della energia elettrica spese che sono aumentate in maniera vertiginosa in questi ultimi giorni hanno garantito la piena disponibilità comunque gli alberghi fanesi ad ospitare i profughi che stanno giungendo dall'ucraina lo ha affermato il presidente dell'associazione luciano cecchini aggiungendo però che al momento nessun contatto è stato preso con le istituzioni ancora arrivano con il contagocce i profughi grazie ad iniziative spontanee assunte dagli stessi ucraini presenti nel territorio oppure da cittadini appunto di loro iniziativa ancora le istituzioni non si sono mosse perché nel nostro territorio non si è ancora verificato quella quell'immigrazione massiccia che si attende ormai inevitabilmente da qualche giorno però la situazione langue negli alberghi langue perché veramente per i giovani non c'è nulla dice cecchini il carnevale non è che abbia offerto tante iniziative per i giovani sì per i bambini forse anche per le famiglie ma i giovani sono rimasti all'asciutto e poi anche gli eventi non ci sono grandi eventi che attraggano i giovani quindi anche la situazione alberghiera langue al momento gli alberghi sono vuoti e non ci sono iniziative valide per aumentare e del resto per aumentare le presenze e del resto tutto il sistema ricettivo non può campare su due mesi all'anno come giugno come luglio e agosto insomma tutta la bassa stagione in questo momento è un peso che gli albergatori non riescono più a sopportare bolide nel cielo notturno avvistamenti anche a fano è è accaduto poco prima delle venti di sabato dove c'era anche poca gente in giro per il freddo ma anche per l'ora di cena che non sono mancati gli avvistamenti di un bolide che ha attraversato tutta l'italia centrale solcando solcando distintamente anche il cielo di fano è apparsa improvvisamente una scia luminosa rimasta visibile per alcuni secondi non era una stella cadente come quelle che si distinguono appena nella notte di san lorenzo appunto quelle scie boom che arrivano e spariscono subito questa era proprio una scia persistente che ha soltato il cielo e ha suscitato non solo curiosità ma anche tante tante emozioni ebbene tante segnalazioni sono state giunte anche nel sito di fano tv dedicato ai reporter di strada i quali hanno segnalato l'apparizione di questo corpo celeste appunto nel sito di fano tv grande patrimonio culturale la diocesi scheda 21.000 beni concluso l'inventario di tutte le chiese un modo anche per proteggere le opere è stata un'opera veramente importante e poderosa quella che hanno compiuto i catalogatori della diocesi di fano fossombrone cagli e pergola che hanno realizzato una scheda per ogni bene contenuto nelle chiese di tutta la diocesi di tutte le quattro diocesi dobbiamo dire e non sono solo i quadri le opere d'arte ma sono anche gli oggetti gli arredi tutto quello che è conservato sia nelle chiese che nelle sacristie un'opera mastodontica un'opera che serve per la cura la manutenzione degli stessi beni ma anche per evitare che questi magari vadano da una chiesa all'altra e poi si disperdano oppure che qualcuno vada venduto in maniera non molto regolare e poi c'è anche la piaga dei furti per cui la catalogazione serve per rintracciare e per definire bene qual è la proprietà di quel bene se poi venisse ritrovato giriamo ancora la pagina sul corriere adriatico vediamo vediamo eccola vediamo come nella val cesano si parla di una notizia di cronaca auto di tre tifosi va a fuoco così non assistano al derby una disavventura per i giovani del san benedetto che sono usciti dall'a14 e si mettono in salvo un'avaria al motore ha mandato in fiamme un'autovettura dei tifosi della samb paura ieri pomeriggio per un gruppo di tre ultras della squadra rosso blu che erano partiti dalla città delle palme da san benedetto per assistere alla partita fano san benettese che si è disputata ieri pomeriggio nello stadio mancini di fan e vediamo poi quale sarà il risultato di questa partita vi dico subito che è un risultato soddisfacente salasso per il caro energia matasse invariate il vice sindaco di mondolfo o di otto allevi illustra le scelte strategiche 100 mila euro in più al sociale nessun aumento di tasse e tariffe nel bilancio di mondolfo tutti i servizi mantenuti e poi rilevante il piano di opere pubbliche nonostante l'aumento delle spese energetiche del 30 per cento e l'azzeramento da parte del governo del cosiddetto fondone sarà approvata nella seduta del consiglio comunale in videoconferenza questo bilancio in programma questa sera alle ore 20 e 30 apriamo ora il corriere adriatico nella pagina di pesaro e vediamo come si parli di lavori pubblici pannelli per nascondere il genica questo torrente che ormai scorre in via sotterranea a margine della città di pesaro pannelli per nascondere il genica e ritocchini a piazzale d'annunzio ieri c'è stato un sopralluogo sul lungomare di assessori albergatori in discussione il parcheggio sotterraneo e poi sono state fornite garanzie per la rinascita della passeggiata da ponente a levante bando per il chiosco in disuso e vediamo quali sono le opere che vengono programmate sia per la spiaggia di levante che quella di ponente per quanto riguarda il levante si è preso l'impegno di migliorare e allargare l'area temporanea pedonale in piazzale d'annunzio e viale nazario sauro migliorare poi la passeggiata sulle lungogenica con una pennellatura una pannellatura temporanea sul ponte infine mettere a bando la nuova gestione fruizione il chiosco in disuso nell'area di piazzale d'annunzio sulla spiaggia di ponente invece c'è l'impegno di riqualificare e mantenere le sedute di piazzale della libertà un nuovo arredo uniforme sull'isola pedonale di ponente e l'impegno di allungare l'isola pedonale oltre via pola in direzione del porto solo interventi selezionati però non lasciateli a metà oliva tra gli operatori alberghieri chiede di risparmiare le incompiute al settore insomma se fate un progetto lo iniziate portatelo a termine è stato questo l'appello che ha lanciato il rappresentante degli albergatori ed ora vediamo qual è stata la causa del grave dissesto che ha investito la strada di Orciano di Pesaro la sera del 2 ottobre del 2015 provocando una grande frana una grande frana che ha interrotto la viabilità per diverso tempo è stata una colossale perdita d'acqua persi quasi 2 milioni di litri d'acqua sistema tecnico operativo in idoneo lavoraggine di Orciano per quanto riguarda appunto questo dissesto è stata depositata la motivazione della condanna dei responsabili di marche multiservizi insomma veramente 2 milioni di litri d'acqua persi nel terreno hanno smobilitato diciamo così l'argine della strada che è crollata non so se riuscite a vederlo ma in questa fotografia verticale la vediamo piccola si vede la strada come era crollata quel lontano 2015 le numerose segnalazioni dei cittadini le frequenti rotture della condotta riparate in modo improprio l'anomala variazione di portata registrata furono trascurati per una inadeguata organizzazione operativa di marche multiservizi da ciò deriva la responsabilità penale delle sue figure chiave per la mancata prevenzione del rischio per l'incolumità pubblica e quindi si va a processo sparisce Marche Nord dal radar degli ospedali e questa è una classifica di quelle classifiche che si fanno per vedere qual è la migliore struttura sanitaria oppure chi fa dei progressi oppure chi va indietro le migliori strutture d'Italia nella classifica di Newsweek eccelle solo Ancona il Santa Croce batte di 9 punti il San Salvatore e poi c'è un cortocircuito delle informazioni ebbene è stato pubblicato dalla rivista americana Newsweek lo studio del colosso tedesco statista con la classifica dei migliori ospedali del mondo un capitolo è dedicato alla sanità ospedaliere italiana e per quanto riguarda la nostra regione entrano tra le prime 122 strutture contemplate solo gli ospedali riuniti di Ancona e l'azienda ospedale Marche Nord ma con una sorpresa le valutazioni non riguardano i tre presidi dell'azienda ospedaliera ma sotto la denominazione di Marche Nord è segnalato il solo San Salvatore che si trova al 84esimo posto fa storia a sé invece il Santa Croce che si assesta al 75esimo posto ovvero 9 posizioni di scarto a suo favore tra il punteggio di 68 e 90% della struttura pesarese e il 69 e 93% di quella fanese dunque il Santa Croce un pochino migliore del San Salvatore non facciamo commenti su questa storia perché altrimenti ci porterebbero lontano a questo punto abbiamo la pagina di Vallefoglia dove si parla anche qui di infrastrutture, di lavori pubblici e si parla soprattutto della nuova rotatoria di Largo Tre Marteri sono stati appaltati i lavori e quindi si avvia il cantiere ora rimane da fare un incontro con la ditta che si è giudicata all'intervento per definire modalità e tempi verranno così rimossi in New Jersey e realizzato un intervento di 400 mila euro che comprenderà oltre alla nuova rotatoria anche l'illuminazione la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e delle aree verdi quindi un punto ciclabile problematico che viene risolto per quanto riguarda la sicurezza a Largo Tre Marteri turismo nuove tecnologie e questo il futuro per Urbino ne parla Egidio Cecchini che è il segretario della Confcommercio Urbinate il quale chiede un impegno unitario del Comune la situazione del commercio un albergo diffuso serrande abbassate e attrattività uni Urb abbiamo avuto un gennaio drammatico ha detto il rappresentante di categoria con la città completamente vuota anche per la scelta dell'Ateneo di svolgere le sue attività completamente online e quindi se mancano gli studenti a Urbino ovviamente la città ne risente per quanto riguarda presenze e vivacità e vediamo che lo stesso problema che denuncia Cecchini della Confcommercio di Urbino lo denuncia un altro Cecchini sempre della Confcommercio di Fano ovvero quello della città deserta della città priva di vivacità di iniziative bar che chiudono anzitempo negozi chiusi poche manifestazioni insomma la crisi economica la pandemia tutto ciò che proviene dalla Ucraina ansia paura insomma sono tutte cose che incidono per un futuro non certo roseo speriamo che con l'arrivo della primavera qualcosa cambi la città ducale omaggia il magnifico dei suoi rettori ovvero Palazzo Passionei la mostra su Carlo Bo e la sua vita di studio ed ora veniamo allo sport vediamo come è andata male per la vis Pesaro che ha perso a Gubbio per 3 a 0 un risultato che non lascia storie a Gubbio e i biancorossi poco propositivi in una gara infarcita di errori e nemmeno con la doppia superiorità numerica va meglio insomma una sconfitta senza storie e lo evidenzia anche il tecnico Banchini lo vediamo qui con le mani nei capelli che non ha Banchini la peggiore partita dell'anno il tecnico lo dice senza mezzi termini non siamo arrivati con la carica emotiva giusta non sono riuscito a far capire l'importanza della gara e vediamo anche il fano calcio derby da montagne russe però l'alma c'è con la Samb il risultato è di 2 a 2 c'è stata una fase alterna per quanto riguarda l'andamento di questa partita prima la Samba va avanti poi Granata ribaltano tutto ma si fanno raggiungere prima della fine della partita entrambe provano a vincere Herrera falisce il 3 a 2 ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno questa sera alle ore 20 e 30 all'occhio alla notizia di Fano TV condotto da Simona Zonghetti e questo è tutto veramente a risentirci